Benvenuti a un nuovo video sul mio canale sono Giovanni Luca Trimotto e oggi noi come avete visto forse da qualche foto che farò a qualche istante iniziamo e voglio continuare a fare il decotto quello lì il decotto d'aglio con una modalità diversa si sbuccia per prima quattro sfichi d'aglio facciamo con questo questo qua con questo spiccolaio qua e facciamo la prima macchina azione per il decotto in polvere chiaramente bene iniziamo 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 questo va a farvi vedere, fino a quanto dovete bene qua Grazie. 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 Stacco un attimo la registrazione. Si continua ragazzi. Si continua e continuiamo a macerare l'aglio. Grazie. 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 Bene. Grazie. 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 Vediamo il prezzo. la mia nonna viene un cucicino e te lo arrivi piano. Adesso ragazzi come stai dicendo la mia nonna bisogna tirarle poi due cucarie. Al primo momento che le manco. Poi lo mettete qui dentro. Non lo so. Abbiamo un litro da sciuva. E vieni qua. E asciugano e ora. E' un po' il cannone. Perché sciuvo. E' un po' il cannone. 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 In casa si asciugano. Magari, non ne fai più? Va bene. Quattro ca' due strade. Ah, è finito. Ah. Ok. Un po' di cannone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La prima parte del video ci vediamo dopo qualche giorno. Grazie a tutti. Ci vediamo un po' di giorno che si asciuga. Saluto. Questa è la prima parte del video. La prima parte del video ci vediamo. 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 il video ci vediamo. la prima parte del video ci vediamo. Olt 저 domani. Oltre dai dai. Un attimo ragazzi. Continuiamo ragazzi. Aspettiamo che. e buona aspettiamo che è buona poi dobbiamo riposare questo è un altro tipo di ricetta non vuole farmi marcenato onde è corto? non vuole farmi marcenato non vuole farmi marcenato aspettate continuiamo a distraccionare e io Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dono l'attimo, ragazzi. Grazie a tutti. Mi sono portato dietro con me da fumare. Svettiamo. Grazie a tutti. 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 un goccio d'acqua però il caso è il frattello ora è il tempo del miglior evo, ora è il secondo che sto ascoltando buono è il tempo che lavorano si tratta di un'altra parte si tratta di un'altra parte se per ora la parte si tratta di un'altra parte è il tempo di spessi e fattare lo spessi e c'è un'altra parte Grazie. È stata la riposa fin troppo tempo, ora proviamo. Prendiamo il tasso, due bottiglie, meglio dire le pentole. Prendiamo il tasso. 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 Prendiamo il tasso.